Monsignor Filippo Santoro è stato nominato da Papa Francesco, padre sinodale del Sinodo sull'Amazzonia che si terrà in Vaticano dal 6 al 27 ottobre prossimi. Dopo la sua trentennale esperienza in America Latina, Monsignor Santoro dirigerà i lavori dell'Assemblea in cui si discuterà di Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Ascoltiamo. Monsignor Filippo Santoro è stato nominato da Papa Francesco, padre sinodale del Sinodo sull'Amazzonia, che si terrà in Vaticano dal 6 al 27 ottobre prossimi. L'Assemblea convocata parlerà di Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Monsignor Santoro è presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e lavoro, la giustizia e la pace e la custodia del creato, con una trentennale esperienza di sacerdote prima e di vescovo poi in America Latina. Convocato lo scorso ottobre 2017, il Sinodo Speciale per la Regione Panamazzonica ha come obiettivo quello di trovare nuove vie per l'evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, in particolare le persone indigene, spesso dimenticate e senza la prospettiva di un futuro sereno, anche a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone di fondamentale importanza per il nostro pianeta. Il Sinodo dell'Amazzonia è un grande progetto ecclesiale, civile ed ecologico, che cerca di superare i confini e ridefinire le linee pastorali, adattandole ai tempi contemporanei. Infatti, sebbene il tema si riferisca ad una regione specifica, in realtà le riflessioni proposte vanno oltre il territorio geografico, perché coprono l'intera Chiesa e fanno riferimento al futuro del pianeta.